Quindi invitiamo il professor Lallas che attualmente è anche il presidente dell'International Dermoscopy Society che ci parlerà di l'entico maligna, opzioni terapeutiche. Prego Emilios. Grazie Maria Conzetta. Salve, ciao a tutti. Si è messo una bella fotografia. Bella fotografia questa. Ma questo nuovo logo dell'AIDS ci piace? No, mi piace proprio quello di prima. Quello vecchio? Non è bello. Grazie. Perché lui diceva no, dobbiamo rimanere sempre con questo reticolo blu. Il reticolo blu. Non esiste reticolo blu. Solo nel nostro logo. Era il vecchio desktop, lo spondo. Sì, esatto. Ok, allora, ho anch'io qualche domanda. Allora utilizziamo questo sistema. L'argomento mio è, dove il titolo? Ah, era prima. Gestione della lentigo maligna. Ma prima cominciamo un po' con questo libro. Perché qualche anno fa, perché a te questa epoca, non ti piace questa epoca, eh? No. Non ti piace questa epoca. Guarda, perché no? Guarda qua. Melanosi, Dubrei, Hutchinson e soprattutto ottimismo. Guarda l'ottimismo. L'ottimismo, sì. Guarda, vedi l'immagine? Sì. E che è scritto sotto? Sì, sì. Pre-cancerus. Pre-cancerus. Ottimismo. Sì. Vedevano qua e dicevano pre-cancerus. Non è ancora un cancro. A te non piace questo. Non piace l'ottimismo. Sì. No, io sono ottimista di natura, però questo non è ottimismo. Questo è ottimismo. E tutto questo è cambiato dopo, grazie a molti, ma soprattutto, eh, Alessandro, grazie a quel ragazzo, a quello collega, eh? Chi è questo? Non lo conosci, non lo conosci. A lui non piaceva il colore grigio. No. Non piacevano le cose che sono intermediate, no. Bianco-nero, bianco-nero. Hai visto la VHO? Infatti sta facendo i salti nella tomba, perché dopo il nuovo libro del VHO, sì, sì. Allora, e lui ha detto che, no, dobbiamo smettere, Hutchinson, Melanoma. Melanoma. Però oggi, come hai già detto, forse riconsideriamo un po' se la dobbiamo chiamare in un altro nome. E in realtà questi nomi non hanno sopravvissuto. Dubrei, no? Hutchinson. L'antico maligna ha sopravvissuto come termine. Però, ha sopravvissuto, però in realtà da, non lo so, 30-40 anni è la teoria principale è che abbiamo quattro sottotipi istologici di melanoma, abbiamo anche altri, ma questi quattro sono quelli più importanti, e tra quelli è anche l'antico maligna melanoma. Per quanto riguarda la frequenza tra questi quattro, l'antico maligna è in quale posto? Uno, due, tre, quattro. Direi due. Due. E ci sono anche lavori che dicevano, che forse anche uno, però sicuramente due. Sicuramente due. È abbastanza frequente, allora. E poi ci sono due, tre altri punti particolari per l'antico maligna, che sono questi tre. E su questi tre punti discutiamo oggi e domani. Il primo, che lo discutiamo adesso, è che l'antico maligna ha la miglior prognosi rispetto agli altri tre tipi. Questo è chiaro? Sì. Questo è chiaro. Bene. Il secondo è che l'antico maligna ha il rischio più alto per ricorrenza dopo asportazione. E questo è anche chiaro. E questo è anche chiaro. Ok. Il terzo è che l'antico maligna è difficile da diagnosticare. È, secondo me, uno di due più difficili da diagnosticare sotto tipi. L'altro difficile è il melanoma nodulare. Chiaro pure questo. Chiaro pure questo. Però, oggi forse, alla fine abbiamo un metodico, un nuovo metodo, e con questo metodo, alla fine forse siamo capaci di diagnosticare piccolissime l'antico maligna. La GPI domani ci parlerà in una maniera analitica sull'approccio inverso. Allora, questo non lo discuto io oggi per la diagnosi. Allora, la possibilità di ricorrenza dopo l'intervento, che è più alta rispetto a tutti i sottotipi di melanoma. In realtà, se guardiamo qua i numeri, è vero che quando facciamo solo 5 mm, che è il margine che dobbiamo fare per un melanoma in situ, come sappiamo tutti, quando facciamo solo 5 mm, i percentuali di clearance che abbiamo non sono buoni. Sono percentuali 70%, 50%, in qualche studio anche 25%. Questo non è un percentuale accettabile quando facciamo solo 5 mm di allargamento per un antico maligna in situ. E per quale motivo, questo non funziona bene ragazzi, devo dire, per quale motivo, se guardiamo nelle linee guida, tutte le linee guida, queste sono le americane, ma su tutte le linee guida, per l'antico maligna è scritto che... Se possiamo fare qualcosa con questo? Forse devi puntare Ok, è scritto che per l'antico maligna dobbiamo, anche se il tumore è in situ, i margini che dobbiamo fare sono più larghi di 5 mm per avere un percentuale di ricorrenza accettabile. E parlando dei margini di più di 5 mm, questo potrebbe essere una cosa impegnativa, non è facile. Sarebbe facile qua, qua sarebbe facile, 10 mm, lo facciamo? Ok. Ma qua non è poco, non è poco. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, teoricamente, se non vuoi fare queste margini di 10 mm, c'è un'alternativa. Qual è l'alternativa? L'alternativa è di fare un tipo di MOS, però MOS non si può fare proprio, un tipo di slow MOS, una asportazione a stages, stages, studies, ok? Multiple steps, ok? Che più o meno è una cosa così. Abbiamo qua il nostro melanoma, tipo l'antico maligna, facciamo il taglio, però non asportiamo a quel momento il melanoma, asportiamo solo questo pezzo di pelle intorno, questa linea di pelle intorno. il melanoma rimane lì, per il momento, rimane lì, ok? Facciamo l'esame istologico, normale istologia però, non frozen, normale istologia, e se intanto il melanoma rimane lì, mettiamo anche, questo mi piace, mettiamo i punti. Bello, eh? L'alternativa è di, no no, ma questo è un metodo, ok? L'alternativa è che non metti i punti, però lo lasci aperto, lo lasci aperto, ok? Fino al momento che hai l'esame istologico di questa riga, di questa linea. Sì, 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 sì. E se questo alla fine è libero di malattia, puoi fare la riconstruzione finale. Sì, sì. Allora, più o meno questo, questa è la terapia di prima linea per l'alternativa linea. Questa è la terapia. Oppure 10 mm. Sì. 10 mm, ok? E se fai 10 mm, o se fai questa metodica, a quel punto i percentuali diventano buoni, diventano quelli che vogliamo avere. 2%, 3%, 1%, 0, 0, appunto qualcosa, ok? Non lo so. Eh? È complicato questa cosa. Non è. In realtà c'è anche uno, collega, che per tutte le lenticome a linea fa questa cosa? Non credo. Secondo me no. No. Nessuno, secondo me, per tutte le lenticome a linea fare questa chirurgia, oppure 10 mm di allargamento. Ma nelle linee guida è scritto questo. Allora, ogni volta che non lo facciamo, che per me è ogni volta, perché non lo faccio mai, ogni volta che non lo facciamo, non è giusto, ok? Non è giusto. Non è la prima linea, non è la terapia ideale che dobbiamo fare per quando è sulla base delle linee guida. Allora, questa è una cosa che dobbiamo considerare. C'è qualcosa scritto nelle linee guida che nessuno lo fa. Strano. Forse lo dobbiamo riconsiderare un po'. Se nessuno non lo fa. Poi, andiamo a vedere qualche esempio clinico. Aspetto clinico, aspetto dermoscopico. Non discutiamo oggi molto per questo. Facciamo solo una domanda. Se possiamo mettere la question... Però non la prima, la seconda, perché è la prima... Ok, perfetto, grazie. Allora, ti preoccupi per questa lesione? No, no. Eh? No, niente. Not at all? No. Un pochino, little bit. Un pochino? Un pochino e una risposta bella. Eh, bella. Sometimes. Eh? Yes. Professoressa? Pigmenti tactini. Pigmenti tactini? Sicurissima? No. No? Allora, qual è la risposta tua? Un pochino. Eh, di how? Certo che mi preoccupo, perché se anche una keratosi clinica... Allora la tua risposta è tre. Sì. Sì, sì, sì. Però penso a una keratosi clinica. Bene. Bene, bene. Allora, vediamo il risultato. Sì. Sì. Ok, ok. Bene, bene. Poi, ritorniamo... Vedi, c'è sempre, vedi, note tol 3%, vedi? Note tol 3%, vedi? Poi, tra un minuto dobbiamo parlare per questo 3%, però, eh? Eh? Ritorniamo a questo 3% tra un minuto. Bene. Allora, andiamo alla mia presentazione, perché mi pare che c'è un'altra domanda qua. Ok? Sì, c'è un'altra domanda. Facciamo direttamente la prossima domanda. Allora, siamo preoccupati, abbiamo detto tutti. Che cosa fate adesso come step? Facciamo una exisional biopsy, esportiamo tutto. Facciamo un punch, un shave, oppure... Il primo chizzo, non biopsy. Nulla. No, il problema... O follow up. Che cosa faresti? Io farei un shave biopsy, perché così al patologo dai tanto pezzo. Lo discutiamo tra un po'. Non dici così? No. Non dici perché? No. Tu? Sì, sì, due. No, io due. Punch. 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 Elvira? Con focale è punch. Con focale non è tra le... Punch. Ok, punch. Qualcun altro? Sì, punch. Exisional. Ah, tutte le risposte sono votate. Sì, sono buone. Tu devi votare per il quattro, perché non ho preso... Sì, io non ho preso niente. Io non ho preso niente. Non ho preso. Ok. Ok, vediamo. Vediamo il risultato. Punch, 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 punch. Ok. Discutiamo un po' su questo. Perché dobbiamo discutersi questo? Perché come la professoressa ha detto, teoricamente, quanto il melanoma è incluso nella nostra diagnosi differenziale, la biopsia che dobbiamo fare è una biopsia escisionale, non parziale. Anche questo è chiarissimo nelle linee guida. Guardate qua. Andiamo alla presentazione. Andiamo alla presentazione di nuovo. E' chiaro che quanto il melanoma è incluso nella mia diagnosi differenziale. devo fare una terapia escisionale, non una biopsia parziale. Però, questo lo dobbiamo capire. Per applicarlo nella pratica quotidiana, lo dobbiamo capire perché, perché non è una buona idea fare la biopsia parziale per il melanoma. Perché? Perché? Perché è pericoloso? E' pericoloso? No. E' pericoloso? Le cellule viaggiano, no? No. Viaggiano? Vedi, no? Ma che informazione hai se fai una punch? Dove la fai e che informazione hai? La seconda domanda. Questa è la seconda. Allora, perché è pericoloso? No, la risposta. No, non è pericoloso fare un punch, un shave. No. Ok? Oggi lo conosciamo. 20 anni fa era un topic questo. Ok. Bene. Oppure perché non funziona. Non funziona, cosa significa? Non funziona per il patologo fare la diagnosi con questo piccolo pezzo. Non è facile. Non è facile. E perciò, ragazzi, se possiamo fare qualcosa con questo sarebbe buono perché devo fare tre, quattro volte clic. Ok? Allora, le biopsie parziali non hanno nessun impatto sulla prognosi, questa storia è chiusa, perché può essere non effettivo, effettivo. Efficace. Efficace. Bene. Perché? Perché se prendiamo di questa lesione qua un piccolo pezzo, poi per il patologo potrebbe essere molto, molto, molto difficile avere solo un pezzo della lesione, un parte della lesione. Sarebbe difficile decidere se questo è un nevo o un melanoma. Sei d'accordo, patologo mio? Sono d'accordo. Infatti poi lì il quesito non è tanto la diagnosi, ma la natura, cioè se è melanocitario o non è melanocitario. Allora arriviamo adesso lì. Allora, la biopsia parziale non è una buona idea, perché per il patologo sarà difficile decidere se la lesione è nevo o melanoma. Perciò, siamo d'accordo tutti? Adesso sì? Ok. Però, andiamo un attimo, se questo vuole andare. No. No. Next. Va bene. Dicono in più di uno che l'audio è troppo basso. L'audio è basso mio. Forse sì. Forse non ti sentono qui. Soltiamo un po'. Ok, e dobbiamo immaginare che la diagnosi differenziale tra un nevo atipico e un melanoma iniziale è comunque difficile, anche se abbiamo tutta la lesione. È molto più difficile quando non abbiamo tutta la lesione. Però, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa con questo, eh? Devo dire. Ok. E questo è perché all'inizio, in una fase precoce, le alterazioni istopatologiche del melanoma sono ancora sottili, piccole. Giusto? Sì, e perdiamo la simmetria della lesione. Ci serve tutta la lesione per giudicare se la lesione è simmetrica o non è simmetrica. Altrimenti è difficile. Però, il punto è che qua... Emilio, ci dicono che devi puntare verso la luce verde lì. La luce verde lì? In alto? Ok. Dove c'è la luce lì? Quell'altra. Lo cambiamo perché altrimenti perdiamo tra poco tempo, tra poco lo cambiamo. Ok. Ok, va bene. Però, qua, ritorniamo un attimo alla nostra lesione. Abbiamo detto che non facciamo la biopsia parziale perché non possiamo decidere tra nevo e melanoma. Tra benigno e maligno. Però qua, qua, è questa la mia diagnosi differenziale? Nevo e melanoma? No. No. Potrebbe essere questo un nevo? C'è un tipo di nevo che può essere così? In questa età? In questa localizzazione? No. No? No. No. Ok. Allora, qua la mia diagnosi differenziale è tra melanoma e una cosa che non è melanocitaria, non è tumore melanocitario. Qual è la cheratosi? Attinica pigmentata. Che Caterina ha detto prima. Oppure l'antico forse solare, una piatta chiratosi seborroica. Ok? Allora, la domanda, come Alessandro diceva prima, non è nevo e melanoma. La domanda è se questa è una lesione melanocitaria o non è una lesione melanocitaria. E perciò possiamo dire che le biopsie parziali hanno assolutamente senso per valutare le lesioni sul viso e anche le lesioni sul cuoio capelluto e anche le lesioni su altre sede anatomiche particolari come genitalia. Ok? Allora, sì, sono d'accordissimo che una biopsia parziale ha senso qua. Poi la domanda, punch o save? Punch o save, punch o save, punch o save. Più materiale mandiamo e meglio è. Però noi in Italia siamo poco abituati a fare le biopsie con shaving. In realtà, come Alessandro sta dicendo, nella letteratura dicono che è meglio shave. Perché meglio shave? Perché è più simile con la biopsia? Escezionale. Abbiamo più superficie. Però tutto questo è per la diagnosi differenziale tra neo e melanoma. Per la diagnosi differenziale tra una lesione melanocitaria e una lesione non melanocitaria non è così importante. Vero Alessandro? Non è così importante. Allora, anche un punch può essere una scelta giusta. Ok? O due punch. Esatto. O due punch. Perché due punch? Allora, whatever, quello che vogliamo fare. Vogliamo fare shave? Va bene. Vogliamo fare punch? Va ancora bene. Però se facciamo punch, dobbiamo ricordare solo un piccolo dettaglio che non è così piccolo. Un dettaglio ma non è così piccolo. che sul viso è possibile che ci sono due cose assieme. Che c'è una lentigo maligna e lì più vicino, più a fianco c'è una lentigo solare. È possibile. O una keratosi attinica. Tutte queste sono lesioni frequenti che si formano sul viso, dal fotodaneggio, dal sole. Per esempio, in questa signora qua, vediamo la clinica. Dove devo fare? Qua? Ok? Vediamo la clinica, vediamo la dermoscopia. Se facciamo il punch qua, la diagnosi sarà keratosi seborroica. Se facciamo il punch qua, la diagnosi sarà lentigo maligna. Perché in realtà questa è una lentigo maligna, questa è un lentigo solare o keratosi seborroica. Allora, il punch va benissimo, però dobbiamo ricordare il dettaglio che soprattutto quando la lesione clinicamente ha due parti che sono diversi, dobbiamo forse fare più di uno punch. Uno da qua, uno da qua. E così siamo sicuri che non abbiamo perso qualcosa. Bene. Poi. Allora, le biopsie parziali si possono fare per le lesioni pigmentate del viso. Dobbiamo ricordare la possibilità di tumore di collisione. Facciamo una biopsia shave, allora, oppure più di una biopsia punch. Allora, facciamo la prossima domanda. Andiamo. Una domanda molto particolare. Per questo tumore che discutevamo adesso alla fine, che era l'entigo maligna con un po' di lentigo solare. Una domanda un po' filosofica. Un po' come si chiama? Prediction. 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 Allora, cerchiamo di rispondere. Se facciamo l'ipotesi che questa lesione non la trattiamo, se facciamo l'ipotesi che questa lesione rimane lì, l'età del paziente la potete capire dall'immagine di prima, era 80, non lo so, 82, 83, ok? Che può succedere da questa lesione se non la trattiamo? Muore? Il paziente muore? Morbidità severa? Morbidità non severa, però qualche morbidità? Oppure nulla? Assolutamente nulla. Possiamo giocare un po' questo? Ovviamente non esiste risposta corretta qua, non sappiamo, non sappiamo, però che ne pensiamo? Che ne pensiamo? Cioè vuol dire nella maggioranza dei casi, vuol dire? Eh? Vuol dire nella maggioranza dei casi? Sì, nella maggioranza dei casi, sì, la possibilità più alta. La probabilità più alta. La probabilità più alta. Eh? Vuoi sapere adesso? Sì. Some morbidity, maybe. Tipo? Ah, tipo se cresce tanto, oppure se a un certo punto sviluppa una componente invasiva, questo non possiamo dirlo, non abbiamo modo per dirlo, no? Ma è possibile che cresce tanto? Io intendevo sempre se cresce poi in maniera profonda, se si sviluppa, che ne so, una componente desmoplastica, se... questo. Sì, ma... È poco probabile. Poco probabile. Poco probabile, no. Ok. Però che non succeda niente, mica possiamo dirlo. Cioè nella maggior parte dei casi magari non succede niente, però... La maggior parte dei casi non succede niente? Sì. Sì. Siamo d'accordo? Eh? No. No? La maggior parte succede qualcosa? No, non la maggior parte. Eh? Non la maggior parte, però può succedere. Ah, allora... Noi stavamo dicendo che noi i casi di metastasi, linfono dalle, i casi così, così, le abbiamo visto. Alla maggior parte... Beh, ma non puoi giocare sulla maggior parte. Nulla. Non è che vai a tirarlo. No, no, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Arriviamo, arriviamo, però... Arriviamo. La maggior parte... Non succede niente. Ah, una rete a progressione. Non lo so, non lo guardo. Non ho visto persone a cui l'ho lasciata per dieci anni e sono sicura che non è successo più nulla. Sì, sì, sicuri non possiamo essere. Vediamo le risposte del pubblico. No. Eh, some morbidity. Un po', un po' di morbidità. Giusto. Va bene. È giusto? Sì. Sì, sì, è giusto. Sì, è giusto, è giusto. Però tutto è giusto qua. Sì, tutto può essere giusto. Ma direi che al maggior parte non succede quasi nulla con l'etico maligno. Al solito. Va bene, ritorniamo un po'. Gli altri non sono d'accordo, il 20%. Gli altri non sono d'accordo. Notting a solely is 20%. Sì, sì, gli altri... No, no, la maggior parte non è d'accordo. Comunque, come ho detto, non c'è una risposta corretta qua o una risposta sbagliata. Però ritorniamo un po' a quello che teoricamente dobbiamo fare per una lesione che siamo tutti d'accordo che la probabilità più alta è che ci dà al massimo un po' di morbidità. Questo abbiamo detto adesso. Un po' di morbidità oppure nulla. Queste erano le risposte più votate. Per questa lesione qua dobbiamo fare sulla base delle linee qui da quello che discutevamo prima. E adesso arriviamo alla discussione che l'etico maligna ha la miglior prognosi rispetto a tutti gli altri sottotipi di melanoma. Questo è giusto, però non significa che questa l'etico maligna, questa qua, ha una prognosi migliore. Questa l'etico maligna è un melanoma invasivo che già ha anche una metastasi. Una metastasi, ok? È chiaro che la possibilità questa esiste. La possiamo quantificare questa possibilità? Difficilissimo. Difficilissimo quantificarla e nella letteratura ci sono pochi dati su questo. Qual è questa possibilità? Questa è la domanda di un milione di euro, eh? Questa è la domanda. Qual è la possibilità che questo succede? Non sappiamo qual è la possibilità. C'è nella letteratura qualcosa, non voglio dire che questi numeri sono numeri che possiamo essere basati su questi numeri, ci sono anche altre cose, che la possibilità è 4, 5%, 3%, che l'etico maligna diventa invasiva. E tutto insomma è una possibilità che esiste, non è alta, non è alta, ma esiste. È chiaro che lo conosciamo benissimo, che questo tipo di melanoma cresce molto, molto lentamente, non cresce rapidamente, e abbiamo tutti tantissimi casi come questo qua. se uno può trovare le fotografie dal passato è possibile che capiamo che questa lesione in realtà era lì 30 anni. 30 anni non è per un melanoma è strano, però nell'entico maligna può succedere, può succedere spesso, frequentemente, che un lentico maligna cresce solo, solo in una direzione orizzontale per molti anni, tantissimi anni. Vediamo anche un altro caso qua di nostro amico Willy Stoltz, 2007, una lenticoma linea abbastanza facile da diagnosticare, 2007, e poi nelle fotografie 10 anni prima c'era, 20 anni prima, forse c'era, anche 30 anni prima, forse c'era. Allora, è chiaro questo, che la lenticoma linea, come regola, cresce in una maniera non rapida. E così arriviamo alla discussione che abbiamo già aperto durante la presentazione di Geppi. Questo forse è un esempio molto buono di questa discussione che fanno loro, overdiagnosis, che questa è la definizione di overdiagnosis. A proposito, overdiagnosis, come che ti diceva prima, non è una cosa dell'anno scorso, è una storia che ha iniziato 20 quasi anni fa, questo era un articolo 10 anni fa, 10 anni fa, che parlava della stessa cosa, lo discutiamo oggi così tanto perché questo articolo era pubblicato non a questo giornale di prima, ma al New England Journal of Medicine, è diventato così famoso. Allora, come Geppi ha già detto nella sua presentazione, la overdiagnosi non è una diagnosi sbagliata, non è una diagnosi sbagliata, non è che chiamiamo cancro una lesione che non è cancerosa, non è questo la overdiagnosi, ok? La overdiagnosi è che diagnostichiamo correttamente un cancro, correttamente, è un cancro, non è errore, è un cancro, però questo cancro è molto probabile che non faceva nessun problema, non risultava nessun problema al nostro paziente. E secondo me la letigo maligna è forse anche il cancro della prostata è l'esempio più calzante. Facile, sì. Ok, allora, perché oggi siamo capaci di diagnosticare cancri che non risultavano in nessun problema? Vediamo un altro esempio. 92 è la nostra signora, questa è la lesione clinicamente, questa è la lesione dermoscopicamente, nessun dubbio diagnostico, ok? E sulla base di questi melanomi, come per esempio la lentigo maligna, è cominciata tutta questa critica che l'augmento della incidenza del melanoma in realtà non è reale perché tutti questi melanomi sono melanomi di questo tipo, melanomi molto precoci, melanomi che non risultavano in nessun problema se non erano diagnosticati e perciò la morbidità, la mortalità è stabile e non è diminuita. Questa è la critica che fanno loro. Arriviamo adesso di nuovo al punto che Geppi ha già fatto vedere. Ok, la descrizione del problema è una discussione teoretica, c'è ovviamente un parte vero in questa discussione, ci sono altre cose problematiche che non abbiamo il tempo adesso da discutere, però arriviamo alla soluzione e come soluzione propongono loro che dobbiamo utilizzare, ritornare nell'epoca che utilizzavano i colleghi il threshold di 6 mm, se la lesione è più piccola di 6 mm non la dobbiamo biopsiare. Questo come Geppi ha già detto è ridicolo, è ridicolo, mai non può essere proposto in una maniera... Potete immaginare che io parlo a voi e dico ok, domani se vedete questa lesione qualche 5 mm, dromoscopicamente questa, non la asportate. Non è una discussione che possiamo fare, non potevamo fare una discussione così, perché oggi sappiamo che è possibile che questo succeda, che è la lesione ancora più piccola da 5 o 6 mm, però già invasiva. Questo è possibile, ok? E poi c'è un altro esempio di una lesione che è 3 o 4 mm, però lo spessore è già 1.2. In realtà in questo studio che abbiamo pubblicato l'anno scorso, con una serie di casi di micromelanomi con una diametro più piccola di 5 mm, che sono questi qua, 30% di questi, 30% erano già invasivi. Allora, quale discussione dobbiamo fare? Non c'è anche... Non possiamo anche fare questa discussione, è solo ridicolo. Però, arriviamo alla fine, qual è il problema vero? Il problema vero è che possiamo diagnosticare il melanoma precoce piccolo. Questo è il problema, veramente, questo è il problema. E il problema è che io posso guardare con il mio dermatoscopio e dire, ah, questa non è l'entico maligna. Questo è il problema. Oppure, che cosa faccio dopo? Il problema è che possiamo diagnosticare un piccolo basalioma? Oppure, che cosa facciamo dopo? Per esempio, negli Stati Uniti che fanno MOS chirurgia al 50% dei basaliomi. Forse è quello il problema. Oppure il problema è la terapia che vi ho fatto vedere prima per la lenticoma ligna. 10 mm, oppure questi staged margin excisions. Per questa signora fare questo, forse questo è il problema. Non è il problema che io posso dire, ragazzi, questa è una lenticoma ligna. Non è questo il problema. Il problema è se poi decido di fare questo. Per un tumore che è nell'età di 92, forse non crea nessun problema. E questo è quello che vi ho detto prima. Guardate, dati negli Stati Uniti. 37% di cancri non melanoma sono operati con la chirurgia MOS. E non parliamo neanche per la lenticoma ligna, parliamo per il basalioma. Forse questo è il problema. Overtreatment è il problema, non overdiagnosis. secondo me. E vediamo questo prossimo esempio. Ok, qua abbiamo una domanda. Sì, abbiamo una domanda. Domani parliamo per i criteri, però anche senza la presentazione di domani. Do you worry about this lesion? Ti preoccupa questa lesione qua? I have no idea what it is. Ah, ma non possono vedere adesso la fotografia. Ah. Vedete la fotografia? Vedete? No. No, eh? No. Che cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Adesso la vedo, no. Ah, la vedete? Ok, bene. Sì. No, 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 no. La domanda non è che cosa faresti. Eh? Ti preoccupi? Preoccupi? Ti preoccupi? No. Pensi che... Benigna? No, dai, non mi preoccupo, no. Va bene, non ti preoccupo. No. Va bene. Ok, vediamo. Ci sono i globuli? Sì, ma... Ma... Ah, quella del vertex è la un lentigo solari. Sì, sì. Quella invece, e se guardiamo i dettagli dermatoscopici, domani parliamo su questo, domani, non oggi, però si può fare la diagnosi dell'entico maligna qua. Ok, vediamo il risultato. A little bit, bravi, bravissimi, a little bit. Ok, ok. Allora, con questo caso, andiamo alla presentazione di nuovo. Con questo caso vorrei far vedere anche un altro argomento. È veramente un problema che noi possiamo diagnosticare un melanoma così piccolo? Siamo sicuri che questo è un problema? Secondo me, questa è la soluzione di tutti i problemi. Perché se puoi trovare una lentigo maligna come questa, poi andiamo alla prossima domanda al pubblico. La prossima domanda è... Andiamo, ragazzi, alla domanda. Che facciamo qua per questa lesione? Che facciamo? Biopsia essizionale, parziale, shave? Ma non si può fare parziale qua? Non si può fare parziale e sicuramente... Sì, puoi fare un punch da un millimetro. Da un millimetro, ok. Allora, se facciamo la diagnosi in questo stadio, tutta la discussione è già finita. Tutta è già finita. Non bisogna discutere per i margini, non bisogna discutere per le metode più avanzate. La gestione è così, così facilissima. Una piccola asportazione, cinque minuti, un punto o due punti... Niente. Fine della discussione. Ok, guardiamo il... Però i risultati qua... Eh sì, sì, biopsia essizionale è l'unica cosa che possiamo fare. Bene, andiamo alla presentazione di nuovo e concludiamo con... Scusi? Sì, era una piccolissima lenticomaligna. Sì. Concludiamo con questo caso, 88. 88, ok? La lesione è questa, la dermoscopia è questa, la fotografia non è perfetta, però secondo me si capisce che cosa è. La domanda è che cosa facciamo in questo signore di 90 anni? Chirurgia, radioterapia, i miqui mod? Nulla. Nulla. Monitoraggio. Però non ho capito, abbiamo già la viaglia, sì. Sì, sì. Cioè sappiamo, è chiaro. Sì, sì, è una lenticomaligna. Lo sappiamo già, abbiamo fatto un punch. Abbiamo già fatto il punch e una lenticomaligna, ok? Vabbè. Che cosa facciamo? Lui ha 88 anni. 90, sì. 90 anni? 90 anni. 90 anni sta a casa. Eh? Per il follow up a casa sua. Follow up? Eh. Eh, neanche i miqui mod? No? Va bene. Guardiamo che cosa non c'è. Io non so voi, ma i nostri chirurghi oramai 90 anni è diventata la normalità. Scusa? No, non so i vostri chirurghi, ma per i nostri chirurghi 90 anni è la normalità oramai. Sì, sì, sì. Sì, 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 chiaro, chiaro, chiaro. Allora, qual era la scelta più votata? Capisco il punto che vuole fare Emilio, cioè bisogna, ecco, un attimino... Il problema non è l'età, il problema è la combinazione dell'età e la diagnosi di un tumore che non è, come regola, non è molto aggressivo. Allora, 77% hanno scelto i miqui mod. A proposito, andiamo giù alla presentazione. A proposito, quella era anche la nostra scelta. Come potete vedere, chiaramente qua, è chiaro che la nostra scelta era i miqui mod ed è chiaro che a quel momento siamo quasi sicuri che andrà bene, ok? Andrà bene e in realtà è andato benissimo. Fai sette giorni o cinque giorni? Fai cinque giorni o sette? Sì, sì, lo discutiamo adesso. A proposito, per l'uso dei miqui mod come terapia alternativa ci sono dati nella letteratura. I dati dicono che i percentuali sono più o meno 80%, 78% di clinical ed istopathologic clearance, che sono percentuali buoni. A proposito, 2.3% solo di ricorrenza in questi che rispondono alla terapia. Anche questo è un numero buono. E dicono gli autori che tutto insommato, tutto questo insommato, possiamo dire oggi che la terapia con i miqui mod è una alternativa, però alternativa per quelli che giudichiamo, prendendo in considerazione tutto, giudichiamo che la chirurgia non è la migliore idea, il miqui mod è una alternativa giusta. Però, quello che voglio io dire e concludere è che il miqui mod sicuramente non è la terapia di prima scelta, di prima linea per la lenticoma linea. Non voglio dire questa cosa. La terapia è chirurgica. Però, quello che almeno noi facciamo da anni, e adesso abbiamo anche dati su questo, è di fare un'asportazione però senza allargamento, una piccola asportazione, e poi utilizzare i miqui mod come terapia aggiuvante dopo la chirurgia. E vediamo un attimo i dati che abbiamo, pubblicati qualche mesi fa sul British Journal. I dati che abbiamo facendo questa procedura, prima chirurgia, senza allargamento, solo un'asportazione molto narrow, e poi i miqui mod, abbiamo 95% di clearance rates con tre anni di monitoraggio, che è un percentuale buonissimo. Molto buono. Buonissimo. Molto buono. e con questo voglio dire che forse a me è logico dire che come regola possiamo evitare questi allargamenti per un tumore che non è aggressivo. Possiamo fare una chirurgia abbastanza conservativa, una chirurgia semplice, eliminare le cellule del tumore, poi una terapia con i miqui mod basati su questi dati che oggi esistono, e qua quando la utilizziamo come terapia aggiuvante la utilizziamo per sei settimane ogni giorno, invece quando la utilizziamo come terapia alternativa, significa che senza chirurgia, monoterapia, lì dobbiamo fare terapia molto molto più lunga, molto più, molto molto, per esempio tre mesi, quattro mesi, ma anche in questo scenario facciamo sei settimane, fermiamo un attimo, vediamo come va, poi sei settimane, in questo caso c'è anche l'alternativa di fare dodici settimane dall'inizio, in continuamento, e poi fermi, è la stessa cosa dopo. Però questo è nel caso di monoterapia, per la terapia aggiuvante, sì, sei settimane, almeno questo è quello che abbiamo trovato in questo studio, che è un studio multicentrico. Ok, siamo proprio in tempo, fermiamo qua. Vuoi fermarti? Posso fare una domanda? Eh sì, sono proprio in tempo. Bravo. Posso fare una domanda? Certo. Quando lo utilizzi in monoterapia? Si sente? La dottorella, la, la, Farnioli qui, microfono, ragazzi? Quando lo utilizzi in monoterapia, fai sempre una biopsia diagnostica prima oppure ti basi solo sui criteri dermoscopici? Sì. Ok, la parola sempre, forse molto molto forte, ma quasi sempre, la regola è che vogliamo avere un confetto. Una certezza. Sì, anche nel caso che siamo sicuri dermoscopicamente, una piccola biopsia, una piccola biopsia al solito non è un problema. Almeno per escludere l'invasività, no? Sì, questa è un'altra storia. Se c'è qualche segno di invasività, clinico, che significa una parte palpabile o nodulare, oppure anche dermoscopico, segno di invasività, quella è un'altra storia. Lì la gestione deve essere chirurgica, solo se è assolutamente impossibile. Ma qua parliamo per la... Sì, non soltanto a scopo diciamo precauzionale. Sì, sì, sì. Beh, vogliamo fare un applausetto a Emilio che è stato bravissimo. Voi vi dovete sempre ricordare, perché Emilio, devo dire, è molto timido quando parla in inglese e quando parla in italiano. Perché voi dovete pensare che Emilio è timido, cioè lui ha paura di non parlare bene. Io lo vogliamo dire che parla benissimo in italiano. Perché lui pensa di non parlare bene. Ma io vorrei parlare così in greco, antico. Allora, c'è una domanda, o meglio, diciamo Emilio, se mi potete proiettare questa, ecco. Diamo un messaggio chiaro finale a questo collega che dice, parte come lentico, poi nodulo metastasi. Dobbiamo uscire con un messaggio a Kermaniano. Lentico ma linea, è un cancro o no? Date un messaggio chiaro. Sicuramente sì. Non c'è nessun dubbio che l'entico ma linea è un cancro. Nessun dubbio. Però è un cancro che al solito cresce molto lentamente. Non è molto aggressivo. Al solito cresce con un rate, cresce lentamente. E quello che cerco di dire è che dobbiamo aggiustare il nostro gestione su questa realtà, che è un cancro, però non è al solito aggressivo. Non bisogna esagerare, non lo bisogna sottostimare. E in realtà quello è che facciamo nella pratica. Perciò ho chiesto all'inizio, ma c'è qualcuno che applica le linee guida, che fa 10 mm in ogni lentico ma linea? Perché quello dicono le linee guida. E la risposta era no. Nessun non lo fa su tutte le lentico ma linea. Allora, forse possiamo essere un po' più onesti e dobbiamo dire che non bisogna fare questi interventi grandissimi. Bisogna diagnosticarlo il più presto possibile. Asportarlo, se lo diagnosticamo presto è facile asportarlo. E poi facciamo anche un po' di Miquimod. Io credo che oggi... Voi lo fate l'Imiquimod dopo, Ketty? Poco. Poco. Tu, Maria Concetta? Io lo faccio, sì. Tu lo fai. Perché fate firmare un consenso? Perché qui siamo off-label. E quindi se il paziente è recidiva è un problema. Dopo l'escissione, che lo stiamo parlando qui, eh? Se lo fai adjuvant. Adjuvant significa che hai già fatto la chirurgia? Sì, ma ho capito. Già fatto la chirurgia, non è che non fai la chirurgia? Ma se hai fatto la chirurgia perché lo fai come adjuvante? Lo fai come adjuvante per diminuire la possibilità di ricorrenza che... Certo, ovvio. Che dati abbiamo robusti che l'adjuvante con l'Imiquimod ti impedisce la ricerca? Aspetta, però l'altra domanda è, Ketty, l'altra domanda è quindi tu, nella tua pratica, asporti con un centimetro? No, allora, le linee guida dicono, i melanomi in sito si asportano con margini tra i 5 e i 10 mm, quando possibile. Escluse lesioni periodificiali, dove non è proprio possibile, ti tieni sui 5 mm, non sui 10. Quindi non è un'imposizione i 10 mm. Quindi tu sai a 5 mm e sei nella regola. Sei nella regola, però sai bene che sei sotto regola perché la lentivoma linea tende a recidivare. No, ma però fai quello che del paziente come lo fai per un... Guardiamo... Sì, questa è la logica, non è l'intensibilità. Aspetta, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Allora, noi dobbiamo parlare di quello che è più giusto, non di quello che ci protegge di più, secondo me. Sì. Cioè, noi dobbiamo parlare di quello che è più giusto fare. Poi deve anche, come dire, essere in linea con quello che è il modus superandi. Cioè, secondo me, fare il ragionamento, io glielo faccio a 5 mm perché le linee guida mi dicono che lo posso fare e non gli faccio l'imiquimod perché se poi succede un cazzo, ho un problema perché è una terapia off-label, rischiamo di... No, 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 ho detto questo. Ah, ok. Io ho detto che dati robusti abbiamo per dire che l'imiquimod ci mette a riparo. Perché lo devo fare se io la lesione l'ho asportata? Non è come un linfoma che tu fai la radioterapia di consolidamento. Allora, se io l'ho asportata, perché devo fare l'imiquimod? Con 5 mm? Lascia perdere. Voi lo fate solo quando fai 5 mm l'imiquimod? No, ma non facciamo mai più di 5. E allora, dove sono i dati che se tu hai una lenti gomma linea asportata con 5 mm, se fai l'imiquimod ti recidiva di meno? Questi, che vi ho fatto vedere adesso. Adesso? Sì, adesso. Sì, sì, adesso, 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 sì. Perché se non lo fai, se fai... Ma non è un randomized clinical trial? No, non è un randomized clinical trial. Se non lo fai, se rimani alle 5 mm, poi abbiamo già dati dal passato, che la possibilità di ricorrenza è alta. Però posso dire, Emilio, io capisco, perché alla fine, scusami, se abbiamo detto che comunque nella maggior parte dei casi non succede nulla, nel momento in cui lo asportiamo, ci prendiamo il rischio di questa eventuale recidiva. Cioè, posso capire anche il ragionamento. Cioè, ok, noi facciamo l'imiquimod adiuvante, anche quando asportiamo la lenticoma linea che non asportiamo mai con i margini. Noi la facciamo, quindi abbracciamo questa strada. Però io capisco il ragionamento opposto. Cioè, di dire, ok, però abbiamo detto che tutto sommato è un tumore che non darà grossi problemi al nostro paziente. Quindi lo asportiamo, anche con il margine minimo. Però l'abbiamo asportato, abbiamo la nostra diagnosi. Ok, possiamo anche stare, ci possiamo anche prendere il rischio di recidire. Cioè, nel senso che anche se recidino all'inizio succedo... Tra l'altro, io ho fatto la domanda che ti volevo fare. Quante volte hai avuto eventi avversi con l'imiquimod? Quante volte hai avuto eventi avversi con l'imiquimod? Eventi avversi tipo? Noi abbiamo avuto casi in cui, praticamente, adesso abbiamo un caso recentissimo di una sorta di tipo lichemplano pilare, in una zona, in una paziente giovane alla quale avevamo asportato una lesione che era in situ, fatto l'imiquimod come adiuvante, e adesso ha un quadro infiammatorio importante dal quale non riusciamo a uscire completamente. E non è il primo caso, ci è capitato l'imiquimod, non lo usiamo tanto, ci è capitato anche con i basaliomi. Allora, comunque, sono eventi rarissimi, però comunque vanno presi in considerazione, quindi io capisco il ragionamento, io direi va bene, però visto che i dati robusti non ce li ho, e visto che tutto sommato al massimo succede una recidiva, e al massimo succede la recidiva in situ, lo asporto, punto, e basta. Quindi, diciamo che secondo me le due strade... No, asporto e basta va benissimo, questo che non va benissimo secondo me è che dobbiamo fare 10 mm su tutte le lenticome a linea, questo non va benissimo. Secondo me, Emilio, era quello che tu dicevi probabilmente all'inizio, è una cosa che, considerato tutto questo, va individualizzata, quindi io non faccio l'imiquimod a tutti. No, va benissimo. E questo è quello, secondo me, che è il messaggio importante. Quindi tutto quello che hai detto, la non aggressività, però l'alta percentuale di recidiva, 5-10 in relazione a se ho tessuto o no, e poi lo decido di volta in volta. Assolutamente sì, assolutamente, però questa è una nuova scelta di più che possiamo utilizzare per diminuire la possibilità, che è una scelta facile, ma non è obbligatorio, ovviamente, che lo dobbiamo fare in ogni lenticome a linea. Quello che volevo ripetere e sottolineare è che, secondo me, non bisogna fare quegli interventi aggressivi come regola. Ci sono casi che forse dobbiamo essere un più aggressivi, forse quando l'età è molto giovane, ma come regola non bisogna fare questi interventi complicati. Soprattutto se tu sai che sei di fronte a una lenticome a linea e non a parti invasive. Sottolineiamo che stiamo parlando di lenticome a linea melanoma in situ, quindi non stiamo parlando quando abbiamo segni oppure conferme istologiche che è un melanoma in vacina. Chiaramente, melanoma in situ. Siete d'accordo? Che qua si è agitato tutto. A quanto tempo dalla chirurgia fa il micrimode adiovante? E poi perché sono più di 12-15 anni che parliamo di micrimode nella lenticoma linea ed è ancora off-label? Perché non è mai una randomized trial fatta? Perché non è fatta? Perché l'azienda del farmaco non era mai interessata? Allora l'unico modo di fare è una cosa che comincia da ricercatori, da noi. Io lo vorrei fare, l'abbiamo discusso, però è una cosa molto molto difficile di fare una clinical trial senza supporto da una... Sì, sì, in pratica le aziende che producono l'iniquimode non sono più interessate a investire su un farmaco che ha perso il brevetto, capito? Quindi questo è il problema fondamentale. Prego. Non funziona più. Il problema è che se noi continuiamo ad usarlo siamo sempre fuori legge. Ma fuori legge mi sembra un parolone. Diciamo che sarebbe più bello che fosse scritto sul foglietto. No, no, non è fuori legge. Fuori legge. No, no, questo si chiama individualized treatment. Questo è assolutamente... Se sei un medico e puoi individualizzare ogni volta il trattamento che fai con ogni paziente. Questo è assolutamente accettabile. Altrimenti, come abbiamo pubblicato questi dati sul British, erano tutti i casi che non hanno preso la terapia in un studio. Hanno preso la terapia tutti questi in questo modo, individualized. e poi l'altra domanda... Quanto tempo dopo la chirurgia? Ah, immediatamente, immediatamente. Quando abbiamo la prima primary healing? Quando levi punti. Sì, quando levi punti. No, dopo. Sì, sì. Diciamo che come tutti i trattamenti adiuvanti deve essere fatto in un tempo ragionevolmente breve dopo l'asportazione. Quindi io direi che entro tre mesi è al massimo, perché altrimenti non ha più senso. Aspetta, Alessandro... Un commento... Prima di a destra, vai. Volevo fare due considerazioni. Sì, noi sappiamo che il melanoma in situ, la lenticoma linea, che è equiparata al melanoma in situ, le linee guida parlano dei 5 mm, le linee guida dicono che se al viso in particolare non ti puoi tenere più largo di tanto e quindi vanno bene i 5 mm, però gli articoli che vengono pubblicati anche sul melanoma in situ e non solo sulla lenticoma linea, che questi 5 mm spesso e volentieri sono insufficienti, sono sempre di più. Per cui probabilmente andrà a finire che magari fra qualche anno, come abbiamo fatto il linfomoto Sentinella fino a qualche anno fa a un millimetro, adesso lo facciamo a 0,8. Per cui bisogna tenere conto, secondo me, delle segnalazioni che i 5 mm, in particolare sul viso, in particolare sul viso, però molti articoli citano anche sui melanoma in situ del tronco e degli arti, sono insufficienti. Sì, sì, ma infatti... Dobbiamo tenere conto di questo. Probabilmente fra 2-3 anni i 5 mm verrà notificato nelle linee guida che non sono sufficienti. Quindi se si può fare un adiuvante, benvenga secondo me. Diciamo che il trend dei margini di escissione è andato dai 5 cm all'epoca di Pappagone e poi pian pianino si sono scesi. Meno, 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 sì. E poi forse, appunto, come dice giustamente Scarcella, alla fine invece forse per alcuni melanomi c'è bisogno di aumentare un po'. Anche del melanoma in situ ti troppo in arti, anche in quelli... Il problema fondamentale, il problema fondamentale che noi dobbiamo ricordare secondo me che è molto più rilevante per la lenticomaligna rispetto a un melanoma in situ in un'altra sede. E poi per il melanoma a crale lentiginosi. Eh, la crale lentiginosi. Esatto, per i melanomi lentiginosi. Esattamente, perché il melanoma lentiginosi è come se fosse, lo dobbiamo immaginare, come se fosse un campo di cancellizzazione. Cioè, noi troviamo cellule anche a distanza dal tumore centrale. A bordi indefiniti. Per questo recidivano più facilmente anche quelli a crale, i due che recidivano più facilmente sono il melanoma del volto e il melanoma a crale. Eh, per forza, perché c'è una proliferazione che si spinge al di là del visibile. Però è anche probabilmente, oltre al tipo di crescita cellule singole distanti uno dall'altro, è anche l'anatomia che è molto diversa. Si parla anche di questo reservoir, dell'SM cell a livello delle ghiandole, dei follicoli piliferi o delle ghiandole ecrime. Quindi di base ci sarà anche un motivo anatomico legato a questo. Alessandro. Scusa, Geppi. Poi volevo dire un'ultima cosa. Riguardo al fatto del punch o dello shave, no? Effettivamente ci sono delle differenze culturali. Infatti i colleghi anglosassoni preferiscono più lo shave rispetto al punch. Io per esempio mi comporto, se una lesione la posso asportare tutta, parlo di lesioni del viso chiaramente, se ha un diametro contenuto, io preferisco fare uno shave profondo e magari lasciare guarire per seconda, arrivare al dermo reticolare così non inficio un eventuale brace lob. Ecco, però se la lesione è molto grande, a quel punto lì anche uno shave diventa parecchio invalidante. E quindi il discorso del punch. Però anche in una lesione grande, punch multipli non sono complicati da fare. Per cui a un certo punto andare a fare anche tre punch, perché no? Se si fanno tre punch, dite o quattro millimetri, in una lesione che magari è 4-5 centimetri di diametro, non è complicata la cosa in tutti i sensi. Siamo d'accordo, su questo siamo d'accordo, abbiamo detto punch, o shave, quello che preferiamo. Sì, ma lo shave non siamo abituati noi dermatologi clinici, ma non sono abituati nemmeno i patologi, ma dico ancor più i tecnici. Cioè, uno shave sottile è molto più difficile da includere e quindi avere poi un orientamento corretto che permetta una diagnosi. Quindi prima di fare uno shaving, se non l'abbiamo mai fatto, avvertiamo il patologo che stiamo facendo uno shaving, uno shaving sottile. Profondo, profondo. Sì, ma se facciamo uno shaving profondo, che equivale a una losanga, di che parliamo? No, ma non vai dalla losanga perché ti tieni sul bordo della lesione. Se facciamo uno shaving sottile, lo shave per definizione è un taglio nel derma, perché se vai nell'ipoderma si apre. Allora chiudiamo. Allora devi mettere i punti. Quindi per essere uno shave devi andare nel derma, perché se stai nell'ipoderma hai aperto e quindi poi devi chiudere. Quindi è una cosa molto sottile, quindi tutto sommato bisogna essere abituati. Sì, perché poi magari bisogna anche mettere, diciamo per non far distorcere il campione, bisogna poi fissarlo in maniera particolare, avere degli accorgimenti a cui non siamo abituati e dobbiamo accordarci con i tecnici e i patologi. Allora, Alessandro, a proposito. Da dermatologo che lavora nella struttura pubblica, l'imiquimod non è prescrivibile, quindi non può essere fatto a piano terapeutico, quindi deve essere spiegato bene che il paziente se lo deve comprare, deve essere accostato. Allora, una doppia considerazione, Emilio, e complimenti perché sei sempre motivo di discussione. Vi aggiungo un altro melanoma che recidiva facilmente e volevo sapere se avete esperienze del trattamento dell'imiquimod che è il melanoma vulvare che spesso è anche polifocale per cui lo asporti, lo asporti anche geniosamente e dopo due anni, tre anni ha esportato sul grande labbro destro e ti esce fuori sul grande labbro sinistro. Per cui ci sono esperienze sull'uso dell'imiquimod inadiuvante sul melanoma vulvare e questa è la prima domanda. La seconda domanda, volevo sottolineare ancora di più un aspetto che ha accennato Elvira ed è il fatto degli effetti collaterali. In quel paziente di 88 anni che gli ha trattato la testa in maniera brillante, io lì mi aspetterei anche effetti collaterali sistemici che sono, sulla base della mia esperienza, dose dipendente per cui immagino che lì avrai usato una quantità di amiquimod, non una bustina insomma, ad ogni applicazione. È un'esperienza anche vostra, gli effetti collaterali dose dipendenti, febbre, sindrome similifrenziale eccetera. Sì, sono effetti collaterali molto ben conosciuti, con l'imiquimod lo conosciamo bene, però direi che in questo gruppo di lentico maligne che abbiamo trattato non abbiamo visto qualcosa di impressivo, abbiamo visto quello che aspettavamo a vedere con i amiquimod. Qualche caso con effetti collaterali sistemici, rarissimo, la maggior parte gli effetti locali che conosciamo bene. Soprattutto voglio sottolineare che in questo studio avevamo due gruppi. L'uno gruppo era aggiuvante, significa che la chirurgia fatta. Lì anche gli effetti collaterali erano meno importanti rispetto all'altro gruppo dove avevamo i amiquimod come monoterapia, come questo signore che dicevi prima. Lì era monoterapia e lì gli effetti collaterali erano un po' più frequenti. Però sempre sto parlando di effetti collaterali che conoscevamo già per l'imiquimod. Nulla troppo importante. Lo schema terapeutico per l'ambito aggiuvante ogni giorno sette volte alla settimana per sei settimane. Per l'ambito monoterapia, quando la facciamo monoterapia, di nuovo ogni giorno sette volte alla settimana, ma per... non c'è un... fai la terapia, controlli, se ci sono ancora segni della malattia, continua, ecco, questo continua senza... Aspetta che c'è prima... allora, prego. Sì, volevo chiedere, a proposito dell'uso di amiquimod in pazienti con forte fotodanneggiamento attinico, la mia esperienza è che non riesco sempre a controllare la reazione del farmaco perché mi legge pure il campo di cancerizzazione epiteliale e spesso il paziente per una reazione locale violenta abbandona il trattamento. Allora, quando devo pensare che ho ottenuto il risultato? Per esempio, se ho una grossa zona di infiammazione, a volte anche di necrosi, mi posso accontentare di quello? Perché è difficile continuare a fare la terapia quando, per esempio, sullo scalpo di un paziente anziano calvo si è accumulato un danno da luce anche di tipo epiteliale. Cioè, non riesco a controllare la terapia. Non so se questo è stato anche un vostro problema. Sì, il punto è che se hai una reazione immediata, forte, ci si può fermare prima, ma sì. Sì, deve essere una cosa molto individualizzata. Soprattutto poi, peraltro, se parliamo di adiuvante, i dati non esistono praticamente. Quindi se io sono riuscito a ottenere una grande reazione, con ogni probabilità, ormai il più è fatto. E quindi potrei teoricamente anche fermarlo. Sì. Prego. Volevo sapere... Eccoci. Volevo sapere, ti attieni a un margine di applicazione delle Miquimod sia nella lesione primaria, non è scissa che nella terapia adiuvante? Cioè, ti attieni a un margine di applicazione? No. O lo applichi indifferentemente? È importante attenersi a un margine per evitare la recidiva? La crema come è scissata? Sì, operate che no. Giustamente. In quale diametro la applichiamo? Dove applichiamo la crema? La prima cosa, dobbiamo dire che tutti questi dettagli, non abbiamo nessun dato per dire, non c'è nessun studio che ha comparato 4 mm di diametro e 10 mm di diametro. Quello che rispondo è solo la mia idea, la mia esperienza, non significa che è giusta o basata su qualche dato. Però direi che al solito facciamo un perimetro intorno, non solo lì dove era il melanoma, ma anche un centimetro intorno dalla cicatrice. Però come ultima cosa, io vorrei ripetere che è ovvio che questa cosa con i micuimod è interessante perché è nuova, però non è il messaggio più forte secondo me che ci deve rimanere. Il messaggio più forte secondo me in questi quattro punti è che il numero tre, che forse gli interventi molto avanzanti non sono necessari per l'antigoma linea nel maggior parte dei casi. Questa è la cosa più importante. Professoressa, c'era qualcosa ancora? Sì, ci sono diverse, sto cercando di cosa... Allora, una interessante dice che cosa pensate della brachiterapia dopo chirurgia e della gestione della extra fascia all'antigoma linea? Questa domanda è buonissima, devo dire. Anche secondo me. Non avevo avuto il tempo per presentare un po' di dati per la brachiterapia, per la radioterapia, che anche lì ci sono dati come terapia alternativa, perché come terapia giuvante mi pare che non ci sono dati, ma come terapia alternativa ci sono e sulla base di questi dati la radioterapia è migliore rispetto ai micuimod. la risposta con la radioterapia è migliore rispetto al micuimod. Però ci sono altri studi che dicono che i pazienti preferiscono i micuimod e non radioterapia. Logico anche questo. Non c'è dubbio. Logico anche questo. Emilio, io non lo so in Grecia, in Italia almeno noi, non abbiamo tanto la cultura della radioterapia nella lenti gomaligna. Anche noi. Però io mi ricordo Kaufman in un corso che disse che lui la usa tantissimo come terapia possibile al posto della chirurgia dicendo ma chi l'ha detto che la lenti gomaligna non è radiosensibile? Voi la usate in Grecia? In realtà no. Utilizziamo i micuimod molto di più. Però sono d'accordissimo. Sarebbe una idea che io mi piace come idea. È una terapia che se era disponibile in una maniera facile però lo proverei sicuramente. Forse il micuimod è più facile. È solo perciò in realtà solo perciò la... Ultima domanda? C'è una domanda. Prego. Emilio, ciao. È una domanda. Dato che è scientificamente dimostrato che le metastasi del melanoma sono sia per via linfatica anche per via ematica mi chiedo quanto importante poi diventa alla fine fare il micuimod sia con che senza la chirurgia? Per chi è importante fare le micuimod? O se diventa poi veramente importante fare le micuimod? In virtù del fatto che... Ah, per la prevenzione anche della disseminazione. Ah, beh. Però stiamo parlando di melanoma in situ. Sì, stiamo parlando di melanoma in situ. Stiamo parlando solo per il melanoma in situ. Esatto. Quando il melanoma diventa invasivo lì entriamo in un... in tutto un altro ambiente. In tutto un altro argomento. Parliamo di melanoma in situ quindi il rischio teorico di metastasi è praticamente zero. C'è un rischio di ricorrenza locale. Di questo parliamo solo. Il rischio di ricorrenza locale, sì. Bene. Ultima domanda, Fabrizio, vai. No, allora io ho un caso personale. C'ho una paziente che non si è voluto operare, molto anziano, 95 anni, e che ha questo melanoma in situ alla gamba e sta facendo l'imicuimod, ha fatto l'imicuimod da più di un anno. Diciamo il melanoma è andato avanti, cioè è diventato... Adesso io ho sospeso l'imicuimod... Cioè ha fatto l'imicuimod per un anno? Eh, un anno, sì, 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 sì. Senza sospendere mai. E il melanoma non se ne è fregato proprio? No, non lo so. Se senza i micuimod... Sarà della gamba. Diciamo che la lesione è diventata un po' più... Adesso c'è anche una fase ulcerativa. Insomma, io adesso, parlando di off-label, l'ho sospeso questo e ho consigliato il 5-flororacile e voglio vedere che cosa succede. Non so se c'è qualche esperienza per l'antico maligno. La signora si è aiutata di asportarlo, quindi è... Come direi... Però c'è 95 anni. C'era qualche dato, prima dell'epoca di immunoterapia, c'era qualche dato per il melanoma stage 3 in opera, perché non può essere operato. C'erano dati per intraligional thorium uracile e c'era qualche dato anche per l'imicuimod. E ovviamente i dati non erano positivi. Non erano positivi. C'erano un caso che forse ha risposto, un altro caso che forse ha risposto. Ma questa epoca è terminata, perché oggi in questo stadio abbiamo la terapia sistemica. Terapia Giovanni Sistemica. Sistemica. Sì, sì. Io volevo solo commentare sulla questione che, innanzitutto, il melanoma in situ della gamba non è una lentigoma ligna, insomma, a meno che non era la variante lentiginosa, per cui comunque era un tumore diverso rispetto a quello del viso, anche se in situ. Ma al di là di tutto, una signora di 95 anni con una lesione in situ della gamba e che rifiuta un trattamento che la prima scelta può anche legittimamente non fare nulla una volta che glielo spieghiamo. Nel senso che anche l'over treatment in pazienti di 95 anni sicuramente con qualche comorbidità è passibile di, come dire, giudizio, insomma, in qualche modo. Nel senso che, ripeto, la signora ha fatto bene in cuor mio a rinunciare magari a una chirurgia, adesso sarà un tumore molto grande, sarà una losanghina, effettivamente la poteva fare, però possiamo anche non farle fare nulla, ecco, diciamo che anche questa è un'opzione, insomma. Un'altra proposta è una selvaggia crioterapia. Una selvaggia crioterapia. Quella fa più male che bene. Carino. Comunque la crioterapia selvaggia. Nelle linee guida è contemplata la crioterapia selvaggia per l'antico-maligno. Certo. Cioè, chiaramente non come prima opzione. Ecco. Se posso, mi è sfuggito, se c'è un quantitativo di micuidi da utilizzare, cioè tutta la bustina, mezza bustina, o a seconda, chiaramente, della superficie, e poi se c'è differenza tra i micuimod 5% o quello, diciamo, al 3,75%, la percentuale inferiore. La seconda parte è facile. Tutto questo che ho detto è per l'imicuimod 5%. Non so nulla, mi pare non c'è nulla, per l'imicuimod 3, l'altra, 3,75%. La prima parte della domanda? Quanta crema usiamo? Come sempre, come sempre. come sempre, devi coprire tutta, un sottile... Quindi posso usare anche meno di una bustina, quanto basta, diciamo. Quanto basta? Mi piace assai. Ti piace? Quanto basta. Questa è mia però. È bella, è bella. Quanto basta. QB. QB, QB. Ragazzi, andiamo avanti. Siete d'accordo? Sì. Ok. Grazie, Emilio.